Perfetto, ho finito di controllare tutto, adesso possiamo registrare. Ma cos'è successo al microfono? Io avevo preparato tutto perfettamente, non l'ho di certo messo io così. E adesso cosa faccio? Avevo in mente di registrare tutto un altro video. Vabbè dai, cogliamo quest'occasione, visto che abbiamo questo microfono da pulire, da ripulire, visto che è pieno di tante cose. Facciano finta che sia la tua testa e ripuliamola un po' dai brutti pensieri, o comunque dai pensieri che non ti fanno stare bene. Va bene, va bene, per te va bene, te la senti? Perfetto. Quindi ho qui queste pinzette. Che ne dici di iniziare? Ok. Ce ne sono veramente tanti. Ok. Allora partiamo, partiamo, partiamo con questo qua bianco. E un pezzettino l'abbiamo tolto. Uno l'abbiamo tolto, uno, 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 uno l'abbiamo tolto. Questo qua che era qua, di colore bianco, bianco. Togliamone uno azzurro, questo che c'è qua. Che ne dici, che ne dici, che ne dici, che ne dici? Spostiamo questo, che andrà poi penso tagliato appunto, perché è un po' più, come dire, incastrato dentro la tua testa. Facciamo attenzione a rimuovere ogni pezzettino. Ne è rimasta ancora uno. Guardi, ne è rimasto ancora uno. Questi pensieri ti entrano proprio nella testa. Non ti fanno, non ti fanno poi più stare bene. Ma togliamone subito un altro, questo giallo che c'è qua. Che ne dici? Che ne dici? Quindi adesso tu concentrati su questa rimozione e pulizia del microfono, come se fosse appunto una pulizia della tua testa. Questo era bello grande, pure questi. Allora vedi che questo potrebbe essere un pensiero un po' più pesante che avevi, e che non ti lo ceva proprio stare bene. Adesso invece voglio provare a toglierti un altro tipo di pensiero, questo qua. Bello appuntito. Veramente tanto. Togliamo questo qui, questo qua, questo qua, questo qua, che secondo me ti faceva stare proprio male. Tutti i pezzi, dobbiamo stare attenti a rimuovere tutto. Ne è rimasto ancora due filamentini. Ancora uno. Perfetto. L'abbiamo tolti. Tolto, 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 tolto questo qua. Adesso voglio fare una cosa. Come vedi, ce ne sono alcuni che sono molto all'interno della tua testa. Vedi, tipo questo, questo, questo. Che ne dici se li tagliamo un po' insieme, così è molto più semplice tirarli fuori, perché secondo me sarà veramente difficile. Quindi ho qua delle forbicine proprio piccole, 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 piccole apposta, che ne dici di tagliarli. E iniziamo da questo qua arancione di lato. Tagliati. Adesso estragliamoli subito. Togliamo anche l'altro pezzo che finisce qua. Aspettate, vai. No. Ok, 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 ok. Come ti senti? Come, 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 come ti senti? Dai che si sta scuotando molto. Adesso dobbiamo questo qua. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Secondo me questi qua, come vedi, sono molto, molto appuntiti. Magari erano quelli che ti fanno più male. Ti entrano proprio dentro. Adesso ce n'è uno qua dietro, di pensiero che magari non riesci a vedere, è un po' nascosto. Ma c'è, è qua. Togliamolo subito. Via. Via, 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 via. Ecco qua, tolto completamente. Completamente. Adesso togliamo questo giallo qua. Che ne dici? Che ne dici? Va bene. Lo prendo, lo prendo. Ok. Dai, questo al primo colpo l'abbiamo tolto. Al primo colpo, al primo colpo, al primo colpo. Perfetto. Perfetto. Continuiamo. Ce n'è qualcun altro che ti dà particolarmente fastidio? Questo qua, dici? Ok, togliamolo. È uno di quegli appuntiti. Togliamolo insieme, dai. Senti che suono che ha fatto. Si vedeva proprio che era proprio dentro, dentro, dentro i tuoi pensieri. Ok. Perfetto, continuiamo. Togliamo questo qua in alto, di colore rosa. Via. Perfetto. Quindi, anche questo lo abbiamo tolto. Adesso io proporrei quest'altro qua, che vedo molto, molto, molto ramificato. di tagliarlo e di toglierlo. Che ne dici? Perfetto. Con un taglio unico. Zacc. Tolto. Cioè, tolto, tagliato. Adesso lo togliamo. Ok. Ok, ok, ok. Via. Via. E via. Prima metà tolta. Adesso togliamo l'altra metà che inizia qua sopra. Tolto. Ancora due filamenti. Uno solo, uno solo, uno solo, uno solo. Via. Via. Non ti servivano questi pensieri. No, 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 no. Stai un pochino, pochino, pochino meglio. Secondo me, secondo me sì. Adesso, guardacene un altro qua dietro che sembra si stia nascondendo. È uno di quelli appuntiti. Senti come fanno quando li togli. Questo qui. Molto, molto, molto brutti, secondo me. Adesso togliamo questo. Via. 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 Era un po' più pesante questo qua. L'ultimo filamento era veramente radicato dentro. Sì. Vai, togliamone subito, subito, un altro. Questo qua, azzurro, che c'è qua. Non so se riesci a vederlo. Ops. Via. Eccoci qua. Tolto. Era bello pesante. Non si voleva neanche togliere. Ho fatto anche un po' di fatica. Sì, è già. Adesso riprendiamo le forbici. Ci tocca. Sì, 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 sì. Rimuoviamo questo qua. Zacc. Tagliato. Adesso togliamolo subito. Togliamolo. Perfetto. Devo anche stare molto, molto, molto attento per non prenderti, come dire, pensieri sbagliati. Quando, per non rimuoverti i pensieri, quelli che invece devono restare nella tua testa, che ti fanno stare bene. Bene. Ho fatto un attimino prima così. Sì, 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 sì. Dai che la tua testa è molto, molto, molto più libera. Eh sì. Ma ancora non del tutto. Quindi continuiamo. Via. Via, 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 via. Via, questi qua non ti servono. No, 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 no. Via. Via. Ce n'era uno veramente piccolo che si stava nascondendo. Non voleva che lo togliessi. Eh già. Mamma mia. A vederli così, questi qua mi fanno una paura assurda. Eh già. Dai che manca poco, l'abbiamo praticamente quasi ripulito del tutto. Adesso sì, secondo me ti sentirai veramente molto più leggero, leggera rispetto a prima. Eh sì. Adesso, guarda, rimuoviamo questo qua. con questo qua. Vedi che pure aspetta ok. Pure questo si stava nascondendo. Ce n'è un ultimo di quegli appuntiti qua. che brutti che sono veramente veramente brutti. Adesso abbiamo un ultimo di quelli radicati dentro. Tagliamolo. aspetta. Aspetta. Perfetto. Non ti ho fatto male né nulla, vero? Un pezzo l'abbiamo tolta. Continuiamo, continuiamo. Via un altro pezzo. E via pure questo. Metà è tolta. Ci manca l'ultima metà. l'ultima, l'ultima, l'ultima metà. e via. Aveva anche un bel nodo questo. Quindi questa la posiamo, la posiamo. Quindi come ti senti? Eh, posso immaginare, dai. Adesso quindi secondo me è arrivato il tuo perfetto momento per andare a dormire. Secondo me adesso proprio sarai super rilassato o super rilassata. Quindi cocco, cocco, adesso tocca, tocca, tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della Ops Community e diventare un opsino se sei un maschietto altrimenti un opsino se sei una femminoccia. Poi, 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 lascia un bel like, un bel commento. Mi raccomando, fatelo, perché commentare è molto importante. Il video di oggi finisce qui, ma se tu, 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 proprio tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio. Di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sotto il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video. quindi, adesso non mi resta che darti la buonanotte che dici. Quindi, buonanotte, un grande, grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Buonanotte, 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 buonanotte,